Per quanto riguarda la mia esperienza a Bond, abbiamo avuto la possibilità di conoscere davvero moltissime persone, fare moltissime amicizie, soprattutto con ragazzi che vengono da paesi totalmente diversi. Quindi c'è uno scambio culturale che è davvero molto ampio e metterti a confronto con una realtà totalmente diversa ti fa crescere davvero molto. Quindi questo credo dal punto di vista dell'esperienza di vita sia stato fondamentale. È stato bellissimo fino al primo giorno, mi ricordo ancora quando siamo atterrati, trovavamo questi study buddies che ci stavano aspettando. È stata un'avventura, tutto, scoprire cose nuove. La realtà è vastissima, ci sono un sacco di lavoratori, un sacco di gruppi diversi e è stato relativamente facile trovare un laboratorio nella quale si faceva esattamente quello che volevo fare. Per cui sono andato là, ho fatto la mia interview. Professionalmente è un'opportunità che credo da non perdere, è un punto in più, anche un attimo per distinguersi. Siamo molto indipendenti nella scelta del laboratorio. Non fatevi spaventare dalla lingua perché a voi si sopravvive tranquillamente senza il tedesco. Io dopo un anno e mezzo ancora non lo parlo. Però questa è una grande ricchezza, il fatto che è un ambiente talmente internazionale che un mese, dopo i primi mesi in cui ci si scioglie e si inizia a parlare, non si ha veramente nessun limite, nessuna barriera. Anche pensando alle vostre prospettive culture, tutti noi abbiamo avuto grandi proposti. Ci siamo trovati benissimo nella volontaria di ricerca in cui sono stati e sono tutti di alto livello. Avrete sicuramente un gran problema di lancio. Trovate un ambiente dove vi sentite liberi, apprezzati, dove siete in grado di seguire il vostro lavoro autonomamente perché credo che più che il progetto è la dignità di sviluppare un pensiero critico che è quello che bisogna poi raggiungere alla fine di questo percorso. Grazie a tutti! Grazie a tutti!